Sì, va bene, la ringrazio Presidente. Sì, per confermare il voto favorevole della maggioranza a questa proposta di delibera, devo dire che ringraziamo i colleghi di Fatale Italia per averla posta, perché è un argomento ovviamente molto importante, centrale, che arricchisce sicuramente lo statuto e devo dire che ne dà effettivamente valore. Sì, devo dire che ne abbiamo parlato in Commissione Ambiente, ne abbiamo parlato assolutamente in maniera approfondita, ricordo, devo dire che non ho seguito nel dettaglio tutti gli aspetti del decorso di questa delibera, credo che nel corso del tempo ci siano state anche varie modifiche a questo testo, devo dire che anche per la maggioranza diamo l'interpretazione che è l'interpretazione che ha dato il collega De Priamo adesso, non vediamo che ci sia questa correlazione del diritto al cibo solo se sia al lavoro, no, non è così. diamo una lettura diversa a questo, o perlomeno è per noi, ci mancherebbe poi nel rispetto delle opinioni di tutti quanti. È ovvio che è indicato che si riconosce alla comunità la possibilità di accedere alla quantità sufficiente di cibo sano, nutriente e poi c'è una frase conseguente che ovviamente parla anche che una vita sana è fatta anche di attività basata sul lavoro, ma non è che il cibo è legato solo alle persone che hanno un lavoro. Non diamo questo tipo di lettura, riteniamo che questa proposta di delibera effettivamente sia una delibera molto interessante e pertanto Presidente confermo che la maggioranza voterà favorevolmente a questa proposta. Grazie